Fischio d'inizio, si parte con Sassoferrato Genga contro Biagio Nazaro Medici, verso Scheffer, il tocco verso Severini, il tiro, fuori Federici, gestosta il pallone sulla sinistra, ancora Federici, limite dell'aria Il passaggio verso Paoletti che si gira e tira, fuori Lancio lungo, Parasecoli prolunga verso Scheffer, limite dell'aria Schefter Si sposta il passaggio ancora per Parasecoli che si allunga troppo il pallone Ci arriva Masci, Cardinali Poi Carboni, il tiro, fuori Ancora in avanti la Biagio Nazaro con Rossini Sulla sinistra, entra in aria ancora Rossini Prova il passaggio, il rimpallo su Parasecoli ma la palla finisce fuori Edoardo Piermattei, prova a fare tutto da solo Ancora Piermattei, si coordina e tira Palla fuori di un nulla Parasecoli, sulla destra Si accentra il tacco verso Bacchiocco Cross verso Scheffer Il controllo ancora verso Parasecoli Fuori Rinvia Bottaluscio Ma non c'è più tempo Finisce qui il primo tempo 0 a 0 Con questa azione del Sassoferrato Genga Con Piermattei che prova a servire i compagni Ma non trova nessuno Riparte in contropiede la Biagio Con Parasecoli verso Rossini Rossini sgaloppa sulla sinistra Ancora Rossini Prova il tiro Cross Non ci arriva di un soffo il portiere E poi il Sassoferrato Genga recupera Cardinali Per Rossini Il cross Rimpalato alla difesa Cardinali ci prova al volo Fuori Palla lunga del Sassoferrato Genga Brutto intervento di Tamburini E per l'arbitro è cartellino rosso Punizione Il tiro di Ricci Che finisce però fuori Ancora una punizione Nel compito di testa di Piermattei Fuori Calcio di punizione per la Biagio Ci prova Carboni Sui guanti di Masci In due tempi Parasecoli Il cross per Ottaviani Che appoggia per Rossini Il gol della Biagio Nazaro Chiaravalle Con Rossini Sassoferrato che prova a riversarsi in avanti Con Ricci Che però tira un raso il terra Debole Calcio d'angolo Respinge con i piugni Il portiere botta l'uscio Poi Morettini Prova al volo Ma Palla che finisce fuori La Biagio spazza in avanti Per Ottaviani Solo contro due Riesce a superare l'avversario A campo aperto Ottaviani Ottaviani Entra in aria Il tiro E la Biagio Nazaro Chiaravalle Chiude la partita 2 a 0 Con il gol di Ottaviani Seconda vittoria consecutiva Per il rosso-blu Quarto risultato utile Vince La Biagio Nazaro Chiaravalle A Sasso Verrato